Lui è Leo, ha due anni ed è un cagnolino che è stato investito, è stato ritrovato da una coppia sul ciglio della strada. È stato subito preso e portato in clinica dove è stato curato, però purtroppo è stata necessaria l'amputazione della zampa posteriore. Ma questo non significa niente perché lui corre, salta, gioca, infatti gli sta molto stretto il box. È un cucciolino che va d'accordo con tutti, cani, gatti, femmine, maschi, è molto dolce. Dato che il boxy sta stretto, vi prego di chiamarci al più presto per liberarlo. Ma avete visto com'è bello Leo? E che sorriso! E non è vero che i cani non sorridono, lui avete visto che faccina aveva. E questo suo piccolo problemino a un arto posteriore, sicuramente sono certa che non sarà motivo per voi per non regalargli una meravigliosa vita al vostro fianco. Guardate che su questa terra non siamo tutti uguali. Ci sono persone disabili, ci sono animali disabili, ma sono speciali. Le loro diversità li rendono unici e magari ancora più capaci di amarvi. E per quanto riguarda Leo, ha tutta una vita davanti per farvi felice. E quindi non fermatevi davanti a questa sua piccola disabilità. Aprite il vostro cuore, allargate le vostre braccia e riempite quel muso bellissimo di baci. Sarete orgogliosi del vostro gesto, perché avrete salvato un'anima innocente e le avrete regalato tutto l'amore di cui ognuno ha diritto, che sia un uomo o che sia un animale. Quindi vi do subito il numero di telefono per adottare il nostro bellissimo Leo. 342-03-36010 Oppure come al solito potete scrivere a portamiacasa-dallapartedoglianimali.it E ora è arrivato!